Una città che si sbriciola, un centro storico che continua a perdere pezzi, palazzi lasciati al degrado e che si rivelano all'improvviso pericolosi anche solo a passarci accanto. Così in questi giorni sembra che le transenne compaiano come i funghi nelle zone più antiche della città. Così è accaduto anche in corso Vittorio Emanuele, dove nelle ultime ore i vigili urbani hanno dovuto chiudere e transennare l'edificio di quattro piani al civico 423. Fatiscente, lo si capisce al primo sguardo, addirittura pericolante. Impossibile attendere ancora. La struttura, che costituisce parte dell'antico palazzo Cesaro Colonna dell'Ottocento, si trova di fronte alla chiesa del Santissimo Salvatore e a pochi metri da un altro palazzo sequestrato pochi giorni fa, sempre per rischio crolli, il palazzo Geraci Ventimiglia, uno dei gioielli della Palermo Barocca. Che lo stato è pericolante, si rischia il crollo, anche se a mio giudizio sono 40 anni che sono in questo luogo e non ho mai sentito scricchiolare niente. Però siccome la situazione per adesso è di degrado massimo, chiaramente i vigili l'hanno ritenuto tale. Chi è venuto a fare il controllo, a fare la perizia? Sono venuti i vigili urbani praticamente e la perizia l'ha fatto il geometra dell'edilizia pericolante del comune di Palermo, del centro storico praticamente. Erano tutti qua presenti, ieri c'erano una ventina di persone qua tutte. Così facendo le hanno chiuso il negozio? Praticamente sì, di punto in bianco, senza avvisarmi, senza niente. Così è vero e ripeto che c'era l'ingiunzione già da diversi anni, però voglio dire io sono una piccola cellula di tutto un edificio, gli altri proprietari sono completamente disinteressati alla cosa, nessuno ha voglia di ristrutturare questo palazzo. E io sono la povera vittima, l'ennesimo disoccupato in città da questo momento in poi. Grazie a tutti.